Un variegato universo femminile è un'influenza che si è stesa su tutta l'arte spagnola del XX secolo. È il Picasso parzialmente inedito che esce dalla mostra a Palazzo Stozzi di Fiorenze, dove sono esposte 90 opere del grande maestro spagnolo, provenienti dal Museo d'Arte Reina Sofia di Madrid. La genesi di Guernica, come spiega Eugenio Carmona, costituisce una delle sezioni di maggiore impatto. Questo percorso del Minotauro, del mostro a Guernica, con esbossi, preparatori, disegni che sono in relazione con il Guernica. E che si può fare perché tutte le opere che abbiamo provengono dal Museo Reina Sofia. E il Museo Reina Sofia ha insieme tutta questa serie del mostro e la serie del Guernica. La rassegna, che copre il periodo tra il 1910 e il 1963, esalta anche la poetica del segno minimale, di artisti come Juan Miro o del meno noto per l'Italia, Benjamin Falenzia. Redurre la realtà a questo minimo, essenziale, che non si può bene sapere che cosa vuol dire, ma che è un impatto nel cuore e fare poesia. La mostra Picasso e la modernità spagnola resterà aperta fino al 25 gennaio 2015.